Molto felice di essere nuovamente madrina di Cersaia e disegna la tua casa che secondo me è un contest molto importante perché sempre più vedo e sento cittadini semplicissimi, normali, che hanno voglia di mettere mano alla propria casa senza necessariamente fare uso di architetti professionisti o specializzati e quindi l'opportunità di Cersaia può essere anche una buona opportunità per vedere cose nuove, materiali nuovi ma soprattutto per avere un aiuto per poter fare questo Quest'anno c'è anche la novità del concorso Selfit Cersaia è diventato Cersaia 2.0 anche con l'aiuto dei social che secondo me sono molto importanti ormai è il mondo dei social per cui anche per i più giovani è importante avere questo mezzo e mi raccontano che ha avuto un grande successo perché in pochi mesi hanno raggiunto mi pare vicino ai 5.000, 4.700 selfie insomma da tutto il mondo che ha quindi direi un grande successo che conferma comunque l'importanza del mondo di Cersaia che ormai è diventata una fiera straordinariamente importante perché non è solo la fiera delle ceramiche ma anche degli altri materiali come il legno e il marmo ma è anche una fiera che coinvolge in tanti eventi la città di Bologna Grazie a tutti